ciao a tutti ragazzi bentornati in un nuovo video oggi andiamo a vedere un altro prodotto l'opiparo e in particolare un letterman la letterman è quella famosa casa produttrice che produce multi tool di ottima qualità e fattura e in particolare andiamo a vedere il modello micra allora già dalla scatola possiamo vedere l'attenzione ai dettagli infatti già aprendo la scatola nella parte superiore possiamo trovare questo rapido escursus della storia della letterman mentre se andiamo ad aprirla lateralmente troviamo il nostro bellissimo multi tool micra allora multi tool che è molto piccolo compatto infatti sta come potete vedere in una mano studiato apposta per essere meno ingombrante possibile appunto per essere portato dietro tutti i giorni chi è amante dell'EDC dell'everyday carry piuttosto che dell'outdoor o del survivor comunque non può non apprezzare questo prodotto allora andandola ad aprire possiamo trovare le grosse forbici che è il pezzo forte di questo multi tool forbici che all'utilizzo si riaprono grazie alla molla e che ne facilita comunque molto l'utilizzo mentre nei manici possiamo trovare in uno le classiche pinzette il cacciavite piatto a taglio philips e soprattutto cacciavite piccolo a taglio più apri bottiglie mentre dall'altra parte nell'altro manico troviamo il pulisci unghie con la limetta interna il cacciavite a taglio grande e per ultimo la lama del coltello anche questa tutto chiaramente con l'acciaio letterman quindi ottima qualità e resistenza nella parte esterna possiamo vedere il metro con i centimetri e nella parte inferiore abbiamo l'anello per poterlo fissare a qualsivoglia accessori tipo chiavi piuttosto che un moschettone o qualunque altra cosa comunque questo è un accessorietto veramente veramente carino quindi oltretutto marchiato letterman quindi ottima qualità come già detto un ottimo prodotto è indispensabile chiaramente nell'utilizzo di tutti i giorni nell'everyday carry è un prodotto veramente fantastico bene ragazzi io vi ringrazio di avermi seguito vi ricordo che in descrizione ci sono i contatti del negozio per qualunque informazione o dubbio commento scrivete qua sotto iscrivetevi al canale seguiteci perché ci saranno tantissimi altri video io vi ringrazio di avermi seguito e ci vediamo a un prossimo video ciao ragazzi e alla prossima